Ciao ragazze, la mia allegria di mattina, esattamente, sono in 7 e un quarto, è molto molto allegrosa. Mi sono appena alzata, questo avuto sarà il vlog del mio compleanno. Era un'idea che mi è venuta così, ma mi è sembrata carina e quindi niente, inizierò a farla. Non girerò proprio tutte le parti, perché comunque, essendo che non voglio comunque che i miei compagni, perché alcuni miei compagni vogliono finire su YouTube, per cui non vorrei, diciamo così, perfurare la loro privacy. Ecco, in questo momento alzata di mattina il mio cervello è ancora addormentato, per cui non mi posso avvalere di molti termini specifici. Per cui niente, ora mi sono appena lavata la faccia, anche se non sembra, mi andrò a pettinare, farò lo zaino, perché io sono un genio, non l'ho ancora fatto lo zaino. Come vedete, è ancora da fare. Salutate gli Wendee, ciao Wendee! È la parte della mia... cioè, le 7 di mattina gli unici presentabili sono loro in questo momento, per cui... Questi... Niente... Stamattina ho todesco, raga! Che bello! Ah, vabbò, ci vediamo dopo, ciao! Bene, sono vestita, questo è l'outfit, diciamo così, semplice maglietta larga, leggings, poi night blazer. Bellissimo il mio bagno, devo dire, fantastico! E niente, poi per gli occhi... Oh, oddio! Ho messo semplicemente un po' di mascara, niente di che. La mia faccia di all'asta è fantastica il mattino, ovviamente. Niente, ci vediamo a scuola. Ciao ragazzi! Ecco, perfetto! Ciao! Allora, il motivo delle mie risate sono che la mia amica Valeria mi sta filmando in questo momento. Allora, niente, ci stiamo dirigendo a scuola per fare due emozionanti ore di tedesco. E ci sono quelle del 2001 laggiù che mi stanno fissando. Traballa! Una deficiente, se no, va bene lo stesso. E niente, per cui... Ciao macchia! Per cui sarà abbastanza emozionante questo vlog, ve lo dico, la parte più divertente sarà magari a scuola. Perché... perché sarà a scuola. Per cui niente, adesso spegni perché mi sembra un tanto ambiguo. Beh, devo rischiacciare questo? Sì, ciao! Questa, raga, è una scena stupenda. Se mi scopri, uccide. Ho fatto un trenzato a Pitchbird. Cioè, ragazzi, io sono 65. Questa è la bellissima roba che abbiamo fatto stamattina. Mi è fantastico vedere matematica. C'è un po' confusione perché è ricreazione, ma... Cioè, è via, ragazzi, è bellissima questa cosa. Te la fanno bene male. Mi viene stupendo. E poi niente, è... Ah, va, 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 va. E poi è il mercato, il mercato del... Sì, è sabato. Non so neanche che giorno è. Perfetto, guardate, un signore che passa. Ma si vede? Sì, penso di sì. Quindi questo è il bellissimo mercato molto affollato della mia città. No, no, non ti ha guardato. Si sta guardando. Chi è che c'ha più guarda male? Che signore? Non si vede lì, qui lì. Ah, sì? Ma io non lo vedo. Ma è lì, porca di questo. Ma si sta guardando il telefono. Eh, no, ma quando ha detto ciao ci ha guardato male. Ah, perfetto. A buco. È suonata la ricreazione. Allora sei noto di giorno. Se invece dormi di più, sei dormiente al giorno, vuol dire che sei noto alla notte. Vai, 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 ok, vai. La faccia a l'arte fa dai. Dai, è in suorino. Mi chiamo Enzo Lorenzo, suga, mano, asciuga, più agosto, poi, 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 per nascere peste, le banane fresche e di clementare di osce. Può vedere? Vai, canta a tuo. Ciao. No, canta quella del però. Un giorno volerò. Ma poi un giorno volerò. E poi mi schianterò. E poi volerò. Con un ruolo. Mi porti su. Mi porti su. Tu mi porti su. Se mi metti che sei. Ah, che bellezza. Ah, che dolore. E poi sto all'amore. È così che va l'amore. Andiamo a fare cinastica. Ci vediamo dopo. Si, sono ancora qui. Stiamo andando in palestra. I miei piedi molto belli. Ci stai già partendo. Eh. Sento. Questo sì che è un video costruttivo. Ce la fai? Siamo uscite da scuola. Stiamo camminando su questi bellissimi ponti. Mi ha fatto una città meravigliosa. Tutto lei in quadro. E niente. Questo che ci vedremo dopo, non lo so. Con l'outfit. Con l'outfit. Noi ci potrebbero fare. Ciao. 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 Il vivo della festa, ragazzi. Ciao, Misu. Ciao, Leo. Ciao, Matti. La fai su. Sette. C'è la mano. Sprendi con il video. No. Sprendi con il video. No, no, no. Devo riprendere. Vai, su. Dai, vai. Sto a passare. Dai. Bene, ragazze. Il compleanno è finito. Io sono stanca, morta. Sono tipo le... Ok. È l'una meno un quarto. Questi sono i miei regali. Farò il video, non vi preoccupate. Niente. Per cui... Un love. Che dire. Spero che... Non l'ho girato tante parti per il compleanno. Però, amen. Nulla. Spero il video vi sia piaciuto. E niente. Alla prossima. Ciao, belle. Ciao.